Lui gioca a Warzone Facciamo due sclerate, dai Ma l'ho disinstallato Eh, vai, scaricalo, ci avrai la fibra ottica a te Eh, sì, 100 Mega, ma ora che lo scarico No, non miciulare l'operatore L'anello non è un posto per bambini L'operatore Lavoro duro Il pelatone L'operatore è quello di... Quei caricatori li usano i civili per i tempi Eh, ma c'è anche il COD Questo sì che è un caricatore Ma è vero, è anche il COD, ce l'ha Ma vaffanculo Dove vuoi andare come ero? Ma che ne so, la stampa l'ha fatta poco Questa è una buona zona di roba Questa che non ci sia troppa gente poi Ma che cazzo è? Non è poi così male Questo potrebbe essere un buon posto per atterrare Ma va bene Come le troie dovevo atterrare Ma va che camper figlio di una merda Succhia cazzi Ma allora si Destra si gente Ma va... No, niente Ma che cazzo fai questa arma? Qua c'è un ugaino Livello 2 Adesso arrivo Oh c'è gente qua Una terra Due ai due Cazzo Uno in meno Eeeh Mi violando qua Fatto, fatto Bomb a morti tutti Allora Ricarico Abbiamo un nuovo leader uccisioni Guarda quanta roba c'aveva già sto qua Porca tana Allora Ricarico gli scudi Io voglio cambiare sta arma qua Porca tana Campione eliminato Un campione è caduto Ah Eeeh Questa l'ho guardata Qui, qui ci sono munizioni energetiche Sto guardando Dov'è chi era quello Zaino blu? Questa si chiama perfezione gente Mi serve un... Mi serve un... Ah devo buttare la roba C'è in italiano anche No, no Solo inglese Solo inglese, ok C'è qualcuno che ha fatto un video in italiano Per iniziare a giocare con delle spiegazioni Si vede un Mastiff Bingham Lo che è brutto fa sempre Mi vedi qua che da minchia Avevo trovato dove siamo atterrati un Mastiff Oh, Spitfire Bello, 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 bello Dio sti aerei Porca puttana Non abbiamo nessuna antiaerea Mi serve un caricatore esteso arancio Munizioni leggere si dice Eh, è arrivato Guido Meda È arrivato Guido Meda Guido Meda Guido Meda Guido Meda Vabbè, se ho leva 8 Da buttare a cosa c'è o niente Non mi vessare quel ragazzo, per favore Ma tenetelo a leva 8 Che da vicino ci sta, eh Sì, sì Più che altro siamo automatici Se trovi il perk del leva 8 Spara anche più velocemente No, a proposta Ah no, spara due colpi per volta Spara Non più veloce Due colpi per volta Qua siamo in jenkshame Andiamo da questa parte Ok Hai visto che cecchinate Ah, ma tu usi solamente il cecchino? No, no, no No, è che adesso ho spawnato con la squadra dei cecchini È come Tannenberg, Tiger Come... Cazzo l'assistenza di arrivo Sì, no, infatti lo sto guardando No, perché c'è diverse classi Adesso ho spawnato con quella dei cecchini E quindi Cilos, non è proprio perché Tannenberg è solamente cecchino No, non è vero Tannenberg è ci sono delle varie classi Su Tannenberg? Sì Non era solamente cecchino Tannenberg? No È sicuro? Sì Ma io sapevo che era solo cecchino Così mi aveva detto anche Max O magari Ricordo male io No, no, era la... Le varie classi Tiger Può darsi che ricordo male io allora Qui c'è un Tannenberg Livello 2 Quindi, Amene, qui c'è l'assalto, sì? Sì, sì, dopo lo prendo È che quando muore una squadra non puoi riselezionarla subito Quindi devi usarle un po' tutte Quindi quando ti uccidono i tuoi bot Che sono attivi o sono giusto per... Ehm... Cazzo? Ma io ho proprio il cecchino Qui c'è un R301 Mica dell'R301 Mi sono il caricatore dell'R301 Merda, maiala Fai lo capire a sto idiota del cazzo Questa c'è un coglione, mi hai rato Comunque non è difficile trovare i colpi del... Questo... Un caricatore pesante steso Aspetta che devo abbassare perché non sento... Questa cosa è quello da Tiger, è pesante quello lì E non è qualcosa di quello lì Che ne sono di più di quegli arancioni, di quelli marroni per l'R301 che di tutti gli altri Non dovrebbe essere difficile trovare Eh, non più, fino a tre giorni che non mi riveco Ah, sì? No, è pesante ti ho detto come ero Non farmi i vestimenti da adesso Ma cosa vuole evitare? Il caricatore per i leggeri Bravo, quelli marroni o arancio che... Quelli arancio, non sono mai su un arancio C'è un arancio, arancio Da questa parte Allora, quel ping là è il centro della safe Qui c'è un'ottica, medio arancio Quindi sento gli dice, c'è questa mania di si vede... Eh, perché almeno so dove andà Ok Ti mando, ne è che il centro della safe è il luogo più sicuro del mondo, anzi Anzi, anzi Sì sì, vuoi, fai vedere... C'è l'avete il casco viola? Sì Qui c'è un casco, livello 3 Guarda, basta che lo guardi se c'è il casco viola Guarda, adesso... Adesso prendo la classe legge salto Seguici, come ero che il tipo sta andando fra le coglioni che te l'hai chiamato per andare lì sulle casco Questo qua è l'assalto, con l'MP41 Ah, l'MP41 o l'MP40, che è quello classico di Tenerife Ma por... co... C'è il camper, figa, deve rompere i coglioni, no? Oh, sei squadra, eh, Cino No, c'è anche l'MP38, l'MP40 e l'MP41 Ma che è? Ah, ok Che l'MP40... Ah, l'MP28, 38, 40, 40 Eh, il 41 è quasi uguale al 40 alla fine L'MP40 è quello classico dei tedeschi Sì, sì, ma anche questo qua se lo vedi è quasi uguale, cambia poco Tipo quello di Battlefield Eh, sì Mamma mia, che proclenze, è forte, è forte, è forte, è forte, è forte La scatola del tesoro, che cazzo serve? T'è visto che te hai pingato il centro, lui è davvero... Ma da dove cosa mi ha ucciso? Ma po... Adesso, non è più qua il centro Bene Adesso il centro sta... Qua No, ma basta, ma dove dici te, comero, puttana la merda Te la può... Tira via quel ping, puttana il clero Ma c'era un altro che non è mio, quello là C'è qualcuno laggiù, occhi aperti Visto che lui va dove ti pinghi te, puttana il cristo Ma sei scemo Ma te sei coglione, io non sono scemo, te sei coglione Ma se... Ma a parte che non c'è nessun ping, quindi non so dove sta andando Hai pingato te adesso il centro, mamma Ma non c'è più Eh, capito, grazie al cazzo, ma lui pensa che cosa le hai detto Ma non... Se non le ho... Ma cosa? Eh, dicilo, sei un rabbiomane Rabbiomane? Sì, sei una merda, io non c'è un rabbiomane Me lo stai trattando malissimo quel ragazzo Ma bata, ma la figa, ma se vuoi avere a che fare con quei ragazzini speciali, puttana la merda Ti devo iscrivere un corso di gestione della rabbia Gestione della rabbia Eh, sì Un paio di pale gestione della rabbia Terapia ad urto Eh, terapia ad urto Oh signore Meglio di vedere un film comico quei due, guarda Lo giuro Comunque sono quattro squadre Eh, grazie dell'informazione Siete quattro squadre, non sono Che coglioni, mi salgono i battiti tipo a 180 quando c'è un monte, eccovelo Carca puttana, fracassi L'ho detto di un orologio smartwatch con il controllo dell'air Ma è quello che c'ho io Guarda, è pure quittato il nostro socio, ma ha capito che sei un coglione Ma vai, vai, ma smettila Ma capo, ha capito che questi casi si bevono i campani alle due del pomeriggio Ma troppo al Mastiff Tu ti bevi il negroni Ciao Pantera Un negroni è sbagliato però Ma che non basta? Buonasera Io non ho capito se ti devo chiamare ancora Pantera Ciao Se ti devo chiamare ancora Pantera Starfighter Come ti devo chiamare? Chi è Starfighter? Bel lavoro Passiamo dentro al prossimo anello Pantera Pantera ti devo chiamare? Ok Quando sono E su Battlefield Pantera Ah Quando sono su Battlefront Starfighter Ho capito Quindi praticamente hai il nick multitasking Ho capito Com'ero aspettiamo che si chiuda la sefe dai qua dentro Ma io sono sul terra Ma non abbassate la guardia Invedibile quest'uomo L'uomo dei mille nick Ok a non pigliarti i colpi a cazzo Portiamo sfiga Dai che uno fighter l'abbiamo fatto pure bello figa Non possiamo distruggere tutto Tutto ora Quattro squadre Dobbiamo uscire di qua Oh rimaniamo qua Rimaniamo qua Sto guardando se arriva qualcuno Ma non vedo Guardate Replicatore in arrivo Hai qualche arma per il corto raggio Io c'ho il Mastiff e uno Spitfire Va bene E stai messo bene così allora Com'è? Non aprire Non aprire No che non ho Siamo solo in due Fermo? 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 Sparano a Ovest A due chilometri sparano figa State giocando ad Apex? Sì eh vuoi venire? Cosa fate nella lobby di Battlefield? Eh voi sono tutti qua No questa non è la lobby di Battlefield Questo è il salotto È diventato tipo il villaggio vacanze Sto posto Allora come facciamo il salotto? C'è la stanza di Apex? Su dove? Pensavo non ci fosse Dai andrò a pushare come mi sono rotto il cazzo Provati a dare una blonda No aspetta 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 Ci sta chiudendo la save Dai aspettiamo Aspettiamo dai Qua siamo dentro eh Sì sì qua siamo giusti Doviamo uscire di là e basta Eh sono sempre di là Stiamo giocando come le baldracche però Ci c'è senso? Eh stiamo giocando un po' Camperati Come le baldracche Fui sei termini proprio Onomatopeici proprio Così che tutti li possano capire Cioè È un ragazzo semplice lì Un ragazzo bergamasco molto semplice Allora se si chiudono da noi Avevamo una possibilità sul migliore Si chiude altrove Siamo fottuti Capsule assistenza in arrivo Due squadre rimaste Occhi aperti Tutto può succedere Ah siamo No tre squadre Quindi noi e altre due Sì Aspettiamo che Rimangano chiusi qua Aspettiamo che si fightano E andiamo nel mezzo Io c'ho la mia bella ulti Te c'ho la tua Sì ma sono lato in fondo Dritti noi A due Due trench Ma li senti fightare? Sì Tuttora Via 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 Allora via Giù le armi E via Corriamo Vendiamole i ground Bel lavoro Siamo dentro al Mamma mia Come parla bene Ragazzi Non sembra neanche di bergamo E' un ragazzo di strada No se arrivano Le arrivano qua per forza Arrivano da ovest per forza Allora imboschiamoci qua dietro No no Stati lì Stati lì Perché tutti i due Da una parte Basta che sparano il mucchio Ci prendiamo delle hit Inutili Io Però potrebbero andare anche da sud Mi sento passi Stai fermo? No 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 Arrivano da qua Mi sa Andiamo da questa parte Qua dovrebbe Sento passi Da dove? Qua la mia sinistra La tua sinistra cosa significa? Qui Potrebbe esserci qualcosa da questa parte Sì sì c'è gente là C'è gente là Li tiro L'ulti Voi cercherei un riparo No ce l'hai di da sinistra 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 No ce l'hai di da sinistra 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 Sempre me Sono blanzoso Uno qua Uno qua Uno qua Ho deciso Mi faccio gli scudi Mi faccio gli scudi Vieni 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 Dammi una mano C'ho nove Via 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 Mi stretto Mi stretto Come ero Ma campioni I campioni I campioni Easy Easy Ho vinto col covero ragazzi Solo col covero Sai che io devo andare a fumare Perché sono troppo eccitato ragazzi Devo andare a fumare Sai chi sembra Provera pubblicità Ragazzi sono veramente euforico Cioè raga allora Io 640 danni e inflitti Decisioni Come ero 315 4 Cioè Sarei prepezzati Ti stima le fila Ah io sparo Quello che non tocco più io Io l'ho finito C'è tu che te lo sei tolto Invece è divertente Quel cazzo di gio Anche solo per giocarci insieme Ma va là Ma va là Ma tra l'altro Ma la va ha fatto una kick Ma la cazzo di me l'ha fatta Ma se gioca a battle Diverti ancora a battle Io non mi diverto Eh io si Io no Troppo no Madre Eh Sono vent'anni che gioca a battle Sì che cazzo giochi a battlefield A battlefield Da battlefield Da battlefield Sì sì esatto Dal primo battle Quello è il primo Battlefield 2026 Eh O 2050 Che cazzo Ti faccio vedere Io c'ho ancora Che cazzo